musica io invece volevo una maglietta sotto ma non ce l'avevo cosa c'entra con l'Operation Hand? cosa c'entra con l'Operation Hand? no stavo parlando con mia mamma ascoltate dobbiamo salutare quel bambino dobbiamo salutare quel bambino là che aveva commentato il video siccome che io ho perso il video perchè era più migliore perderlo e quindi niente adesso vi provo a inviare il nome oh è vero salutiamo N.C.Cosola per cortesia si perchè è una cosa di vitale importanza si è una cosa di vitale importanza dai per piacere salutare questo qua o ritornare oro 4 ritornare oro 1 no 4 però salutate questo bimbo così è contento ciao esplodi ladro dite il nome dite il nome altrimenti non si scapisce venum sanchez nc305 senza morire nc305 ciao adesso se perdi ancora l'audio Andrea prendi fuoco scusa ok banca in attacco io prendo il glas mi serve un montagna un finca e un stai zitto eeeh c'è arrivato tu adesso a comandare spiegami serve un montagna e un finca gambero ok finca sei te un montagne ok no lasciamo stare serve titan prenditi per aprire titan prenditi per aprire oh adesso che rinculo funziona con finca niente prenditi il toucher titan prenditi il toucher ma porca troia ma siete coordinati madonna bifo le motole bestia che sta ha fotti mettiti a costruire aspetta che smoccolo aspetta che mi sparano via 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 lasciatemi passare scherzo lo faccio la cam hai fatto un buco la cam è qua facciamo un busto la cam è qua ho fatto la cam ho fatto la seconda cam ho già fatto i due facciamo un busto si danne uno danne uno danne uno cristo ho preso lo jäger non è morto lo jäger era qui non so più dove si è ok hanno fatto lo jäger jäger è morto no lascia perla lascia perla lascia perla drone un attimo dammi un secondo vai vai me l'ho individuato vado a sinistra eh c'è una terza cam allora sulla sinistra c'è il rook con l'haco attenti perché è cazzito ok abbiamo capito dov'è bandit un secondo drone abbiamo ancora un minuto abbiate un attimo pazienza voglio capire a destra chi c'è a sinistra c'è eh c'è ok bandit è qui ok ok fetta 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 eh là in fondo là in fondo eh si è fatto il giro provo ad entrare io sono già entrato sono già entrato eh da la bravo bravo ho fatto due assi ho fatto le botole e io ho fatto due la loro ottimo ottimo tu devi prenderlo fantastico eh bari mu che deve assassin come unissi stai laggando ok io metto a baricacqua oh ragazzi ho fatto il tipo che mi continua a scrivere che cosa vuole da me mi ha scritto schlect no skill è il primo in squadra avversaria dve venus 434 continuo a rosicare penso perché l'ho fatto 210 ho visto 210 porca vacca ecco perché sta rosicando ho capito adesso oh mio dio titan laggi fa la bestia occhio che sparano occhio che sparano bravo titan che di quella mi sento correre c'è uno qui c'è blitz di fronte sì l'ho visto lo sto no non è più qui sta andando ci sono due uno invece è fermo è uno sulla destra fuori dalla finestra ne passi che palle da etan perché mi passi davanti mentre gli sto sparando in testa controllo al sud andrà no fottuta 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 niente sì ce n'è uno sopra ma non è qua vicino ok ce n'è uno anche qui aspetta è qui appena ti avvicini mi fai la gara stava per fuzzare sto bastardo è tutto bene stavo senti che stanno scavalcando su preso uno oh l'ho messo in ferimento ah no conferma uccisione no l'ho deciso qui fuori c'è cosa ce n'è uno qui sopra a gambero stai attento che ti sta per sparare wallbang a caso dimmi tiro un cosa no sono tutti in ferimento con i nostri fermo che ti ne ci fa aspetta aspetta ti dico dove ti dico dov'è aspetta non era lì dove l'hai lanciato ci sono 3 se li prende ti avverso aspetta dopo scrivo a venom scusa per le rubate le kill ha fatto si tant'è morto ho capito però se li lasciavo lì magari andava eh vabbè non fuori da farmi la lì magari lo rianimavano infatti infatti ne manca uno era finché ah vabbè a parte che io io ok l'ho visto dove cazzo l'ho visto sto facendo un coglione l'ho visto ah no è qui fuori guarda io ho fatto il perro come è di fuori ah si si è qui si è lì fermo 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 si spose ancora non è qui non è qui fuori non è più qui fuori gambero eh sei lontano quella merda credo di essere furbo eh sta interno alla tua destra 30 15 secondi lascia grande no mi ha toccato tutti i nemici vabbè scusa prendeva i 2 gu che c'erano fuori trepava i 20 gu che c'erano mi sono stato bello mi raccomando niente errori pronto pronto ora non cominciare a farla chiamata del loro da cagare non adesso si è mutato si è mutato basta l'abbiamo perso oh no si è mutato oh no basta anche quello lì ma credo stia distruggendo una sedia se non occupano eh lo so per quello che avevo messo ok siamo a 15 secondi è solo una poltura il tempo scade già 15 secondi restano 5 secondi cazzo mi si è spunto ultimo nemico romato forza troia da dietro li avete presi tutti gli ho feriti un minimo ma sono tutti tanti uccisi dagli altri ok va bene mi sono cagato addosso guarda era verde ancora non ti ho dato sfida stranamente ce l'abbiamo fatta e non l'avrei mai colpito se non prende qualcosa guarda il frost guarda il frost però non è brutto il frost così fa paura così fa paura toglila mamma io devo scappare ragazzi ciao vado nei campi di lavora